Eccoci ragazzi, come promesso nel video precedente, ve l'ho scritto come in grande, come titolo, ve l'ho scritto in grande come titolo, vi ho scritto gli aggiornamenti nel prossimo video, eccoli qua ragazzi, perché qualcuno mi scrive nell'altro video, non vedo gli aggiornamenti, ve l'ho scritto nel prossimo video, è vero che a fine che parlo io dico appunto adesso vi metto gli aggiornamenti, avete ragione, ma non sono stato chiaro, nel prossimo video, ve l'ho scritto sotto il penultimo video, adesso sì, adesso potete guardare gli aggiornamenti per le stazioni di domani, martedì 10 settembre 2024, purtroppo l'applicazione che ho ogni tanto non mi mette insieme i video e non me lo fa pubblicare, ecco perché, tutto qua, e va bene ragazzi, allora mi raccomando, occhio a tutte le informazioni che vi ho dato nel video precedente, vi ho dato dei grandissimi consigli, occhio a tutto ciò che ho detto, quindi riguardate anche il video precedente, e adesso qui gli aggiornamenti per domani, martedì 10 settembre 2024, ciao! Grazie a tutti! Grazie a tutti!